Il direttore generale di Riviera Acqua Gabriele Saldo e il docente universitario Federico Fontana sono stati arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sul presunto concorso truccato per l'assunzione di personale nella società pubblica per la gestione del ciclo integrato delle acque. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari contestando loro i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e accusandoli di aver divulgato anticipatamente le domande delle prove d'esame e di truffa ai danni dell'ente pubblico accusandoli in questo caso di aver creato un danno alla pubblica amministrazione in quanto le graduatorie finali sarebbero state viziate dalle condotte illecite poste in essere. Federico Fontana era presidente della commissione giudicatrice dell'esame per assunzioni finito nel mirino delle fiamme gialle della Procura d'Imperia. La Guardia di Finanza Imperiese ha reso noto che dall'analisi della copiosa documentazione cartacea e informatica acquisita nel corso delle perquisizioni effettuate nel luglio scorso è emerso un quadro probatorio connotato da gravi indizi di colpevolezza che ha consentito alla magistratura di effettuare proprie valutazioni in ordine agli elementi probatori individuati ed emettere quindi il provvedimento eseguito stamani al fine di evitare un possibile inquinamento delle prove e una reiterazione del reato. Le indagini che non sono ancora concluse hanno infatti permesso ai finanzieri di accertare che alcuni candidati del concorso che sono risultati essere collocati in graduatoria in posizione utile per essere assunti mantenevano tuttora assidui contatti con i vertici di riviera acqua. Gabriele Saldo e Federico Fontana sono stati prelevati dalla Guardia di Finanza stamani intorno alle 8 e trasferiti nella caserma di Piazza di Amici Semperia per i documenti di rito. In tarda mattinata prima Saldo e poi Fontana sono stati caricati in auto dalle fiamme gialle portati nelle loro abitazioni, Saldo a Bestagno, Frazione di Ponte d'Assio e Fontana, Novi Ligure dove resteranno agli arresti domiciliari senza poter avere contatti con l'esterno.